A Gazzaniga ci sono tre interventi ormai pronti a partire in giunta, sono stati anche approvati i progetti, parliamo di quali sono questi interventi. Sì, sono tre interventi che erano definiti prioritari per il Comune di Gazzaniga, erano già nel nostro programma elettorale. Per ora abbiamo approvato i progetti sperando che sblocchino il patto di stabilità e ci permetti appunto il governo di utilizzare i nostri soldi. Uno dei progetti principali è appunto la sistemazione del cimitero del capoluogo che aveva bisogno di alcuni interventi, formazione di alcuni loculi nuovi, abbattimento barrile architettoniche eccetera. Il secondo intervento è la formazione degli spogliatoi presso il campo sportivo della frazione di Orezzo e il terzo progetto che esisteva già il progetto ma adesso si sta appunto definendo il progetto definitivo ed esecutivo della sistemazione della via Oschiolo. Tre interventi che l'amministrazione comunale potrebbe già fare in quanto appunto economicamente dispone già delle risorse e sono già appunto opere già finanziate ma che purtroppo il patto di stabilità ci blocca e non ci permette di spendere e utilizzare questi soldi per queste opere. Il patto di stabilità che mette tanti vincoli ma ha anche aspetti positivi o perlomeno siete riusciti a utilizzarlo per risolvere alcuni problemi? Aspetti positivi se lo si rispetta, se tutti lo rispettassero probabilmente il risultato sarebbe sicuramente quello aspettato dal patto di stabilità. Il patto di stabilità ci ha permesso di risparmiare, di non spendere quei soldi e di utilizzarli per estinguere i debiti che avevamo con le banche, debiti legittimi, debiti fatti in passato per realizzare gli investimenti e le infrastrutture evidenti e necessarie sul territorio. Questi soldi, per fare giusto un esempio, 5-6 anni fa il Comune di Gazzaniga aveva un debito di 5-6 milioni di euro con le banche, normale per il Comune di Gazzaniga. Oggi siamo a praticamente forse 400 mila euro da estinguere, non lo estinguiamo o meglio lo centelliniamo, evitiamo di estinguerlo perché non sappiamo nel momento in cui lo avremo estinto i soldi che ci avanzeranno dove andranno. Si considera che attualmente il Comune di Gazzaniga ha nella tesoreria dello Stato, però appunto del Comune di Gazzaniga, circa 1.400.000 euro. Dei cittadini di Gazzaniga, lì fermi che non si possono spendere. I soldi che ci avanzano appunto a seguito del patto di stabilità, a oggi li abbiamo utilizzati per estinguere i debiti. Ci chiediamo nel momento in cui li avremo estinti tutti, quell'avanzo dove andrà.